Con le truppe irachene che avanzano verso Mossul da sud e i Peshmerga da nord, all'ISIS usa qualunque mezzo per difendere la città, la sua roccaforte in Iraq. Nel corso dei combattimenti i miliziani hanno anche dato fuoco a una fabbrica chimica a sud-est della città per rallentare l'esercito regolare iracheno. Due persone sono morte e migliaia sono rimaste intossicate dall'anidride solforosa. I pazienti presentavano sintomi di soffocamento dovuti all'incendio della fabbrica di Zolfo presso Kayara, più colpiti uomini e donne anziane oltre ai bambini, specialmente quelli asmatici o con abbronchite e altri casi. Secondo fonti dei servizi segreti irachieni a Mossul, negli ultimi due giorni l'ISIS avrebbe giustiziato 284 civili, forse come monito alla popolazione. Non vi sono conferme indipendenti. I kurdi intanto avanzano da nord, ma hanno dovuto rallentare perché devono ora proteggere le retrovie dopo il sanguinoso attacco a Kirkuk, dove decine di miliziani dell'ISIS, forse nascosti tra i profughi, sono improvvisamente entrati in azione. Secondo fonti non confermate, tre giorni fa sarebbe stato visto a Mossul anche Abu Bakr al-Baghdadi, leader del sedicente Stato islamico, che si troverebbe in città insieme all'artificiere della milizia.